Buongiorno a tutti e permettetemi un saluto particolare e affettuoso ai tanti toscani che oggi sono qui ad Assisi. È un grande onore per me e per tutta la Toscana essere qui, chiamati a partecipare a questa cerimonia così ricca di significato, che ci riempie d'orgoglio, ma ci carica anche di responsabilità. La Toscana è vicina a questa terra dell'Umbria. Per storia, per cultura, per paesaggio, la Toscana fu del resto un luogo importante per Francesco. Basta ricordare il suo ritiro sul Monte della Verna. Fu dopo il periodo trascorso lì che, tornato in Umbria, compose il cantico delle creature. Quello di San Francesco è un nome fondamentale per la nostra cultura. Non a caso il Papa l'ha fatto proprio. La figura di San Francesco continua a parlarci ed è soprattutto oggi di grande attualità. È vero non solo per i credenti, ma per tutti noi. basta guardare a ciò che gli stava più a cuore, all'attenzione e al rispetto per la natura, per tutti gli esseri umani, a partire proprio dai più poveri e dai più fragili. Il suo rifiuto delle grandi ricchezze e delle ingiustizie che ne derivano. Di fronte ad un mondo in cui già allora si vedeva prevalere l'ingiustizia, Francesco fu capace di scelte radicali e con l'esempio e la testimonianza mostrò che un modello di vita alternativo era possibile. Anche oggi viviamo in una società nella quale una scandalosa quantità di ricchezza si concentra nelle mani di poche e dall'altra masse di persone rimangono in una situazione di povertà o di indigenza. Anche oggi occorre ribadire con forza il valore della pace, ma pace e giustizia stanno insieme. Anche oggi dobbiamo vincere l'individualismo diffuso nella nostra società, scoprendo forme nuove di condivisione. Dobbiamo tornare a riconoscere sempre e comunque il valore indiscutibile della vita umana e della dignità dell'uomo. Smettere di accettare che gli esseri umani possano essere oggetto di commercio e di trattamenti degradanti. Tutto questo è fondamentale anche per un altro motivo. Come ha mostrato bene Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, la strada che stiamo percorrendo rischia di portarci a distruggere la nostra casa comune se non cambiamo rotta. E allora il rispetto per l'ambiente, per gli altri esseri umani, sono questioni tra loro profondamente collegate. Ci serve un cambiamento radicale, come ci ricordano anche le tante manifestazioni dei giovani che di recente hanno riempito le nostre piazze e le nostre città e che ci chiedono di agire di fronte all'emergenza del cambiamento climatico. Pongono una questione essenziale che è il loro futuro, il mantenimento di condizioni di vita su questo pianeta. Certo non è facile cambiare, occorre rompere vecchie abitudini, convenienze, interessi consolidati e non basta neppure l'indignazione. Non è sufficiente. Bisogna far crescere il cambiamento, permettere che si consolidi, che si realizzi questo cambiamento. Francesco, infatti, non si fermò a rifiutare le ricchezze. Andò dal Papa e lo convince a riconoscere la sua regola di vita. In questo modo, dalle sue idee radicali, nacque un movimento che durò nel tempo e trasformò la Chiesa e la società. Io penso che tutti dobbiamo imparare da Francesco, dalla sua convinzione, dalla sua tenacia. Credo di poter dire che la mia e la vostra speranza è che la lampada di oggi, accesa con l'olio della Toscana, possa essere il simbolo di questa volontà di cambiamento. Grazie.